Una buona notizia per il settore delle costruzioni arriva dal varo del piano previsto dalla legge di bilancio 2019 che assegna a favore dei comuni italiani 400 milioni per la realizzazione di piccole opere appaltabili con procedure veloci e semplificate. Il piano fortemente voluto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili prevede l'assegnazione ai 76 comuni della provincia di Sondrio, ovvero tutti escluso il capoluogo, di un contributo statale complessivo di 3 milioni e 450 mila euro da destinare a interventi di importo inferiore a 350 mila euro non già integralmente finanziati e aggiuntivi rispetto alla programmazione triennale, risorse preziose che possono essere spese per mettere in sicurezza strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio culturale. Il vicepresidente di Ancele Cosondrio Gian Maria Castelli invita le amministrazioni a mettere subito in atto il piano al fine di aprire al più presto i cantieri e non sprecare un'occasione preziosa per il territorio ed il settore. Per beneficiare del contributo infatti i lavori dovranno necessariamente partire entro il 15 maggio, pena la revoca del contributo stesso.